Arriva da Treviso lo sfogo da parte di Coldiretti in merito al caro Bollette. L'intera filiera è a rischio, dice il presidente della Coldiretti di Treviso, Giorgio Polegato. Secondo l'associazione di categoria, infatti, l'aumento dei prezzi delle materie prime non colpirà soltanto le famiglie, ma con loro bisogna porre particolare attenzione anche alle aziende, che hanno visto un aumento importante dei costi di produzione. È necessario quindi un piano di aiuto in maniera sistematica alle imprese per tutti i settori, oltre che per i consumatori. Infatti, l'aumento delle bollette non soltanto genera un aumento dei costi di energia e di gas per le aziende, ma anche per le stesse materie prime, che vengono acquistate dagli aziende per le lavorazioni. Hanno subito un'impennata di prezzo. Del resto, in Italia, l'85% dei prodotti sugli scaffali al supermercato arriva attraverso gomma, e l'aumento di benzina e gasolio si ripercuote a cascata sulle famiglie e sulle imprese. Tutta la filiera agroalimentare, dai campi all'industria fino alla distribuzione, risente di questi aumenti. In particolare, il prezzo per il gasolio sarebbe aumentato anche del 50%, facendo aumentare verso l'alto i prezzi dei concimi, nonché l'alimentazione del bestiame ed il riscaldamento delle serre. Ciò metterebbe a rischio il futuro di molte aziende, anche del settore florovivaistico. È importante quindi che l'appello di famiglie ad aziende arrivi ai parlamentari, affinché siano adottati degli interventi energici con lo scopo di calmirare questi aumenti, così come i senatori e i deputati veneti hanno saputo fare nelle scorse settimane.